In una piazza gremita di fedeli, ieri sera la comunità parrocchiale del Santo Sepolcro ha festeggiato Don Mario Di Lorenzo in occasione del suo 50esimo anniversario di ordinazione presbiteriale. A presiedere la celebrazione eucaristica il Cardinale Paolo Romeo che quest'anno ha celebrato anche lui il Giubileo Sacerdotale. Presenti, oltre ai fedeli della parrocchia del Sepolcro e delle altre bagheresi, anche quelli delle comunità dove Don Mario ha svolto il suo ministero presbiteriale durante i 50 anni di sacerdozio. Villa Tasca, di Aspre e di Caccamo che non hanno voluto mancare a questo evento per ringraziare il Signore di questo inestibampile dono del sacerdozio ministeriale. A fare da corona al nostro parroco anche tanti confratelli sacerdoti che hanno avuto modo di apprezzare e condividere la sua amicizia in questi lunghi anni. E tra essi anche Monsignor Gino Logalbo, pure lui originario della parrocchia del Sepolcro, che celebrerà il suo Giubileo Sacerdotale il prossimo 16 dicembre. A Padre Mario la comunità ha consegnato un'artistica ricostruzione della chiesa, opera del maestro Peppone Mineo.